Che il cartello toponomastico non induca in errore. Non siamo in un rione periferico dell'India, ma nella città di Trani e più precisamente all'uscita Trani-Sant'Angelo. Immagini che parlano da sole, che pongono in essere una vera e propria emergenza, ovvero lo stato disastroso in cui versa il manto stradale, dove a farvi da padrone sono enormi voragini, alcune delle quali capeggianti proprio al centro delle carreggiate e che rappresentano un vero e proprio incubo per gli automobilisti pronti a dire addio a sospensioni ed assi delle rispettive autovetture. Costantemente in riparazione, le auto di numerosi residenti del quartiere, i primi a segnalare alla nostra redazione una problematica a cui sembra non esserci rimedio e soluzione. Ciò che al momento risultano certi repentini sono invece gli ingenti danni che riportano quegli sventurati mezzi che incappano nelle buche, specialmente di notte, quando nonostante la loro dimensione sono certamente meno visibili e dunque difficilmente evitabili. Una strada particolarmente larga viene percorsa paradossalmente anche a senso alternato per evitare di incappare nelle nemiche numero uno degli automobilisti. Buche segnalate anche in Largo Romania e Via Legermania che diventano un codice rosso infatto di sicurezza pubblica, considerando che queste strade appaiono impraticabili per motorini e ancora di più per le biciclette, per non parlare dei pedoni. I cittadini lamentano uno stato di abbandono del territorio, forse perché, sottolineano, non è la zona interessata dalla Movida, non è certamente la meta preferita di turisti e visitatori. Simbolo emblematico di chi si è dimenticato delle periferie cittadine, anche la storica fontana dell'Acquedotto Pugliese, la mancanza del rubinetto e di rimando dell'acqua corrente è un po' la fotografia più rappresentativa di un progetto ben lontano da quel trani a gogo chiamato ad essere il volano del turismo destagionalizzato.